Infrastrutture, lavori e investimenti, queste le parole chiave delle richieste avanzate da rappresentanti delle categorie economiche e sindacali del territorio di Livorno insieme alla Camera di Commercio durante l'iniziativa Si Livorno va avanti. Tra le priorità per la crescita economica, la realizzazione della Darsena Europa e il completamento del corridoio tirrenico. Presente anche il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che nel suo intervento ha lanciato l'idea di una manifestazione nazionale per lo sviluppo della costa toscana. Altro punto centrale è la tirrenica, ha detto Rossi, servono investimenti pubblici sulle infrastrutture e privati sulla produzione per rilanciare la costa toscana. La Regione ha messo qualcosa come 700 milioni circa, sia sul porto di Piombino sia su quello di Livorno. Il porto di Piombino è stato realizzato, sul porto di Livorno le procedure sono in fase avanzata. Noi pensiamo che bisogna portare la costa ad avere una condizione infrastrutturale che agevoli gli investimenti, la presenza dell'industria. Questo è il punto. Livorno ha grandi possibilità, un grande potenziale, naturalmente dobbiamo cercare di aiutarlo. Aiutarlo come? Attraverso gli investimenti, attraverso delle priorità che noi nel documento abbiamo evidenziato. Le infrastrutture sono sicuramente l'anello principale da costruire in questo territorio e i progetti vanno avviati subito. È importantissimo per lo sviluppo di questo territorio. Un lavoro per lo sviluppo del territorio che necessariamente deve essere un lavoro di squadra. Noi vogliamo fare questo, l'abbiamo cominciato a fare in questi cinque mesi, in tante fasi, in tanti momenti. Faccio qualche esempio, lavorando insieme a Colle Salvetti su alcune partite ambientali fondamentali, coinvolgendo i comuni della provincia per il grande evento della mostra ai Modigliani che è in atto in questo momento. e le situazioni continueranno. Poi il dialogo con la regione, la necessità di trovare un contatto con Pisa. Noi dobbiamo assolutamente fare questa cosa.